Ok, trattiamo oggi, sempre in relazione alla gravitazione universale, un argomento piuttosto cruciale. Fatemi richiamare un attimo quello che abbiamo visto fino ad adesso. Abbiamo affermo quanto segue. Se ho due masse, chiamiamola una M grande e l'altra M piccolo, separate da una distanza R, quindi diciamo che rispetto a M grande R è il vettore posizione di M piccolo, allora su M piccolo agisce una forza, fatemi disegnare con un vettorino piccolo affiancato, dovrebbe essere sovrapposto a R, ma lo faccio affiancato perché qui si riesca a leggere, una forza F attrattiva che ha la seguente formulazione, è proporzionale al prodotto delle due masse, M grande per M piccolo, inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza, quindi al modulo del vettore R, è una forza attrattiva, quindi davanti a un segno meno, c'è una costanza G grande che è necessaria per mettere d'accordo l'unità di misura, ed è diretta lungo la congiungente M grande e M piccolo, per questo c'è questo versorino R, ok? Allora, come vedete, questa è una forza centrale, come abbiamo detto la volta scorsa, cioè diretta verso la congiungente dei due corpi, ed è dipendente solo dalle posizioni, d'accordo? Non è rilevante per esempio il fatto che M stia fermo o si muova, dovunque si trovi M, fisso o in moto che sia, la forza agisce ed è dipendente solo dalle posizioni reciproche M grande e M piccolo, d'accordo? in un caso particolare, ok? Questa forza sulla superficie della Terra, su un oggetto M piccolo, un sassolino, una forza gravitazionale diretta verso il centro della Terra, l'abbiamo chiamata peso, e abbiamo visto che il peso del corpo M piccolo vale la sua massa per l'accelerazione di gravità. Questo vettore G l'abbiamo interpretato come il rapporto tra forza dovuta alla gravitazione diviso la massa del corpo che subisce la forza, questo in realtà l'abbiamo chiamato anche campo gravitazionale. E gli effetti e le caratteristiche della forza peso su dei corpi e sulla superficie della Terra, l'abbiamo studiata in una delle prime voci che si studia quando si inizia lo studio della dinamica. Una cosa importante che abbiamo visto a quell'epoca è il fatto che se vi ricordate ho, qui immaginate che questa sia la superficie della Terra, e quindi un pavimento, un suolo, quello che sia, se ho un oggetto che cade verticalmente, quindi si muove dal corpo A al corpo B lungo la verticale. Il lavoro svolto dalla forza peso per spostarlo da A a B non dipende da come passa da A a B, perché per esempio se il tragitto è questo, passa prima per un punto C, poi da C verso B, quindi il lavoro A a B, questi due sono identici. Quindi il lavoro per andare da un punto ad un altro non dipende dal percorso seguito, ma solo dalle posizioni iniziali e finali. posizioni iniziale e finale. Oppure equivalentemente, se prendo il punto A, e faccio un determinato percorso e poi torno in A, il lavoro lungo un percorso chiuso vale 0. Perché tanto lavoro faccio per, teniamo indietro, per andare da A a B verticalmente, tanto da A a B. Allora se faccio il percorso chiuso, il percorso da A a B rimane quello di prima, da B ad A si inverte di segno, il totale è 0. Quindi due cose sono equivalenti. Questo vale in realtà qualunque sia il tipo di percorso, non solo se fatto da segmenti. Se parto in A e faccio un percorso, per quanto strano sia, il lavoro da A ad A è 0 qualunque sia il percorso. Quando questo succede, la forza che svolge questo lavoro, che ha questa caratteristica, si chiama conservativa. e il lavoro di questa forza, per andare dal punto A al punto B, viene espresso come la differenza tra due grandezze calcolate, una all'inizio e una alla fine. Queste due grandezze, il valore di questa grandezza in A meno il valore di questa grandezza in B, sono utili per esprimere il lavoro. Queste grandezze prendono il nome di energia potenziale. c'è un'energia legata alla posizione. Un altro motivo per esprimere questa relazione è il fatto che il lavoro da A a B è la diminuzione di energia potenziale, dove per delta U si intende quella finale meno quella iniziale. Questa è la finale, questo è il valore iniziale. Cioè l'energia del punto di arrivo, B, meno quella del punto di partenza A. E il lavoro vale l'opposto di questo, cioè l'energia potenziale del punto di partenza meno quella del punto di arrivo. Ok? Nel caso del corpo sulla superficie terrestre, sottoposto la forza peso P, l'energia potenziale è legata alla quota H e vale mg per H. Ovviamente con H ci indica solo la posizione rispetto a una quota di riferimento. Ok? Perché? Perché G è lo stesso in tutti i punti. D'accordo? Ma nel caso più generale, cioè quello trattato all'inizio, quindi quando abbiamo, qui mi ha detto che ci sia la Terra, M grande, qui c'è il nostro corpo M piccolo, in questo caso la forza di attrazione gravitazionale, quindi fatemi indicare con la freccia rossa F, è una forza variabile perché non è la stessa in tutti i punti dello spazio. Mi mettete che ci sia un satellite o un corpo celeste, un meteorite, una cometa, quello che sia. La distanza cambia, la forza cambia, perché vi ricordo che F vale meno G grande, M grande, M piccolo, R quadro, R, se R cambia F cambia. Quindi in questo caso non avrò più una forma così semplice per l'energia potenziale, perché G non è sempre lo stesso. In generale G dipende dalla posizione, quindi dipende anche da H, mentre in questa formula che valeva nel caso della forza peso dei corpi in prossimità della superficie terrestre, che è la stessa per tutti i corpi, indipendentemente dalla loro posizione, qui non vale più. Ho comunque il fatto che F è comunque una forza conservativa, cioè come nel caso di corpi che si muovono poco sulla superficie terrestre, la forza peso è una forza conservativa, cioè il cui lavoro non dipende dal percorso, ma solo dalle posizioni iniziali e finali, questa proprietà vale anche per la forza di gravitazione universale in generale, solo che in questo caso cambia l'espressione dell'energia potenziale. Quindi, ripeto, la forza conservativa, cioè il lavoro svolto dalla forza gravitazionale su un qualsiasi corpo celeste che si sposta da un punto ad un altro, può essere espresso come la differenza tra l'energia potenziale calcolata nel punto di partenza meno l'energia potenziale calcolata nel punto di arrivo. Questa è una legge molto generale che vale per tutte le forze conservative, oppure equivalentemente si può dire che il lavoro lungo un percorso chiuso è zero. Quello che cambia è la formulazione dell'energia potenziale. Vi ricordate a suo tempo, quando abbiamo cominciato a parlare di energia, abbiamo detto che l'energia cinetica è la stessa indipendentemente dalle forze che agiscono, è sempre un mezzo della massa per la velocità al quadrato. L'energia potenziale, invece, dipende dal tipo di forza. Abbiamo, per esempio, una formulazione nel caso che l'energia potenziale sia legata alla forza elastica. Qui abbiamo un'altra struttura, un'altra espressione per l'energia potenziale legata al fatto che la forza è fatta in questo modo, in questo caso, se ho quindi un sistema formato da due masse, M grande ed M piccolo, separate da distanza R, l'energia potenziale legata a questo sistema è data da questa espressione. C'è sempre il meno G, in costante di gravitazione universale, per il prodotto delle due masse, M grande e M piccolo, diviso la distanza R, non al quadrato. Attenzione! Questa vale se ho due masse puntiforme a distanza R l'uno dall'altra. In questo caso, il lavoro, quindi, della forza svolta, scusate, della forza di gravitazione universale, quella formulata da Newton, appunto, per andare da due punti A e B, fatemi fare un disegno che forse è più chiaro, qui ho la massa M grande, qui ho il punto iniziale, questo RA, qui c'è il punto A, e andare da questa posizione, quindi qui ho RB, qui il punto B, indipendentemente da quale strada il satellite o il corpo celeste fa, il lavoro, ripeto, per spostare l'oggetto da questo punto a quest'altro, questo qui non mi serve, lo sposto qua sotto, posso esprimerlo come l'energia potenziale calcolata nel punto di partenza meno quella nel punto di arrivo, cioè, la meno G M grande M piccolo RA, meno G, meno meno fa più, scusate, più M grande M piccolo RB, ok? di conseguenza, il lavoro, appunto, funziona solo delle due posizioni di iniziale e finale e l'energia potenziale, se ho, ripeto, un caso semplice con due o più corpi pontiformi, ha questa espressione, perché ha questa espressione? beh, non posso più utilizzare la formula del lavoro come forza per spostamento, perché lungo lo spostamento da A a B la forza cambia, quindi qui ho qualcosa di più complesso del prodotto forza per spostamento, perché devo tener conto del fatto che lungo il percorso la forza cambia, d'accordo? per fare questo si usa una tecnica, uno strumento di calcolo che vedremo a breve, che è il calcolo differenziale e comunque, al di là dello strumento matematico, il risultato è questo anche per questa formulazione della forza gravitazionale, cioè una forza che abbia questa caratteristica mantiene la proprietà che aveva la forza peso sulla superficie della Terra, cioè è una forza conservativa per la quale è possibile esprimere il lavoro svolto dalla forza su un oggetto all'interno del campo di azione della forza, quando lo si sposta da un corpo, da un punto ad un altro, come la differenza tra due funzioni che dipendono dalla posizione, che prendono il nome di energia potenziale, fatemelo scrivere qua sotto questa è l'energia potenziale gravitazionale ok? cioè è legata alla forza di gravitazione universale anche qui, come nel caso della forza peso la natura conservativa della forza che cosa comporta? perché si chiama conservativa la forza? si chiama conservativa perché si conserva cioè rimane costante nel tempo l'energia totale in realtà meccanica perché? perché il vi ricordate una delle proprietà principali del lavoro è che questo può essere espresso come la variazione di energia cinetica cioè l'energia cinetica nel punto di arrivo meno quella nel punto iniziale dove per energia cinetica intendiamo un mezzo della massa per la velocità al quadrato del corpo nel punto in questo caso B ok? mentre in A avremo un mezzo M V A secondo ma abbiamo appena visto che questo si può esprimere anche come meno delta U quindi eguagliando le due se l'aumento di energia cinetica è uguale alla diminuzione di energia potenziale cioè l'energia cinetica in B meno l'energia cinetica in A vale quanto meno l'energia potenziale in B meno quella in A ok? oppure se preferite togliendo il meno le parentesi o meno U in B più U in A allora posso fare in modo di spostare scusate questa eguaglianza spostando a destra tutto ciò che è relativo al punto A e a sinistra ciò che è relativo al punto B e otteniamo che la somma dell'energia cinetica nel punto finale più l'energia potenziale nel punto finale vale quanto l'energia cinetica nel punto di partenza più l'energia potenziale nel punto di partenza in realtà dato che vale per qualsiasi percorso questo vale per qualsiasi punto P all'interno del percorso questa legge la somma delle due energie cinetiche e potenziale che è costante all'interno del percorso non è altro che una riespressione della legge di conservazione dell'energia dell'energia chiamiamola meccanica cioè cinetica più potenziale potenziale in questo caso relativa alla forza coinvolta che è la forza di attrazione gravitazionale ok e questo è un vincolo piuttosto importante perché il fatto che esista una legge di conservazione ci permette di escludere per esempio tutti quei possibili percorsi che vivono o fenomeni che vivono questa legge e il moto l'evoluzione di un sistema regolato da una forza di questo tipo una forza conservativa deve rispettare questo vincolo proprio perché per la natura della forza stessa coinvolta ed è una cosa da poco in natura quando una cosa si conserva quella è una cosa piuttosto importante una grandezza fisica che ha un significato profondo ok qui la forza gravitazionale cosa fa? come tutte le forze le forze sono dei meccanismi dei processi che non fanno altro che convertire energia da un tipo ad un altro qui lungo il processo che coinvolge il moto di corpi celesti la forza gravitazionale è un fenomeno che converte l'energia da potenziale a cinetica e viceversa ok facciamo l'esempio quando abbiamo mi ricordate in quando abbiamo discusso della seconda legge di Keplero qui abbiamo per esempio il sole qui abbiamo un pianeta che potrebbe essere la terra qui esagero con la eccentricità dell'orbita allora indichiamo con questo punto il perielio P il punto più lontano con l'affeglio abbiamo visto che in P nel perielio la velocità è più grande che non l'affeglio in virtù della seconda legge appunto questo è VP questo è VA ma in P questa distanza RP è più piccola di questa RA quindi in P ho maggiore energia cinetica ok ma minore l'energia potenziale l'energia potenziale è più negativa quindi la somma tra l'energia cinetica al perielio più l'energia potenziale al perielio valgono quanto la somma dell'energia cinetica alla affeglio dove il corpo è più lento quindi ha meno energia cinetica più l'energia potenziale alla affeglio dove essendo più grande RA l'energia è meno negativa e quindi è maggiore vi ricordo che in relazione alla distanza tra i due corpi quindi se U in funzione di R posso esprimere in questo modo allora il grafico di questa funzione di funzione energia potenziale in termini della sola separazione tra i due corpi a questo andamento qui ovviamente ha senso trattarlo per R maggiore uguale a 0 qui tutte le grandezze G M piccolo M grande ad R sono positive col queno davanti la funzione sarà sempre negativa e quindi è proporzionale a 1 su R quindi è tipo un iperbole ed è un iperbole che sta nel quarto quadrante quindi ha un andamento di questo tipo quindi se l'oggetto si sposta verso gli R piccoli l'energia potenziale diventa molto grande negativa più va lontano più l'energia diventa prossima a 0 anche se consiglia negativa quindi ecco che quando la distanza è grande l'energia potenziale è più grande di quando la distanza è piccola ok quindi qui ho nel periello una grande energia cinetica una piccola energia potenziale e viceversa alla feglia in modo tale che la somma rimane costante ok ci sono domande? come esercizio potremmo per esempio calcolare la calcoliamo l'energia un esempio l'energia gravitazionale potenziale meglio del sistema terra-luna assumendo che questa è la terra questa è l'orbita lunare questo è il raggio dell'orbita che l'orbita sia circa una circonferenza in quel caso l'energia gravitazionale è data da meno g al solito massa della terra per massa della luna diviso il raggio medito dell'orbita terra-luna ok allora qui abbiamo potete recuperare le grandezze che ci interessano abbiamo g al solito che vale 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metro quadro diviso chilogrammo alla seconda poi la massa della terra possiamo approssimarla con 6 per 10 alla 24 chilogrammi la massa della luna adesso la recupero eccola qui e 7,35 per 10 alla 22 chilogrammi e il raggio medio dell'orbita terra luna vale 380 mila chilometri quindi 3,8 per 10 alla 5 chilometri ovvero sia 3,8 per 10 alla 8 metri quadri abbiamo quindi l'energia potenziale del nostro sistema varrà meno 6,67 per 10 alla meno 11 minuti metri quadri su chilogrammi alla seconda per la massa della terra 6 in 10 alla 24 20 questo 24 scusate 4 chilogrammi per ancora 3,7 35 per 10 alla 22 chilogrammi e infine diviso 3,8 per 10 alla 8 metri attenzione qui non c'è il quadrato non confondiamoci con la costante di gravitazione universale con la legge di gravitazione universale quindi occupiamoci prima di tutto dei coefficienti prendiamo come prima cosa 6,67 per 6 per 7 35 diviso 3,8 6,67 per 6 per 7 punto 35 diviso 3,8 e viene 77 c'è sempre il meno 7 7 0,407 per 10 alla abbiamo il meno 11 più 24 più 22 meno 8 attenzione il meno 8 denominatore meno 11 più 24 più 22 meno 8 a 10 alla 27 joule che abbiamo semplificare in blu chilogrammi al secondo va via con chilogrammi e chilogrammi metri va via con metri rimane in newton per metro che faccia un quindi scrivendo la notazione scientifica abbiamo meno 7,7 diciamo lasciamo stare le altre cifre per 10 alla 28 joule che ho spostato la virgola a sinistra quindi l'esponente dei 10 l'aumento di 1 ok bene detto questo diciamo che la se volemmo riassumere un fatto fisicamente molto importante è questo in base alla struttura matematica della legge di griovettazione universale si può affermare che vale la proprietà di essere conservativa cioè il lavoro svolto da questa forza su che agisce su un corpo in movimento che si sposta da un punto ad un altro può essere espresso con una funzione che dipende solo dalle posizioni iniziali e finali che questa funzione viene chiamata energia potenziale quindi il lavoro svolto è uguale a quanto cambia questa grandezza che si chiama energia potenziale si è scelto di utilizzare questo tipo di scrittura cioè il valore iniziale meno quello finale quindi l'opposto della variazione ok perché perché in questo modo questo grazie a questo meno si riesce a far sì che in ciò che si conserva sia la somma delle energie potenziale cinetica se qui avessimo messo un più ci sarebbe conservata la differenza e questo è una cosa un po strano è più razionale e più facilmente comprensibile il fatto che si conserva qualcosa di totale non una differenza comunque al di là di questo l'energia associata al movimento quindi energia cinetica più l'energia associata alla posizione quindi energia potenziale danno un totale che non cambia nel corso di tutto il moto di un corpo che sia soggetto alla solazione di questo tipo di forza in particolare la forza di gravitazione universale che è una forza di tipo conservativo e con conservativo intendiamo proprio questo cioè che conserva una grandezza che si chiama energia meccanica totale cinetica più potenziale nel caso specifico della forza di gravitazione universale cioè espressa da questa legge la forma dell'energia potenziale di due corpi puntiformi un pianeta e una stella o due pianeti un pianeta e un satellite indifferente ha questo tipo di espressione è uguale a meno g costante di gravitazione universale per il prodotto delle masse diviso la distanza che le separa ovviamente l'energia potenziale è uno scalare e la la sua natura negativa sta a indicare proprio il fatto che il sistema è legato ma questo lo vedremo un po' meglio la volta prossima abbiamo anche usato questa espressione per calcolare per esempio il valore dell'energia potenziale legata al sistema terra luna abbiamo visto anche il grafico dell'energia potenziale per due due corpi puntiformi e ovviamente il valore molto alto a causa del fatto che le masse sono molto grande anche se sono molto lontane se non ci sono domande per oggi ci fermiamo qui grazie Grazie a tutti.